Innanzitutto essere ancora presenti con gli ammortizzatori sociali, poi continuare con gli interventi sulle imprese, ne abbiamo aiutate 10.000 fino ad oggi con la nostra finanziaria regionale, e poi chiedere a livello nazionale che ci siano delle vere e proprie politiche sul lavoro. Direi che tutto quello che è stato presentato se si realizzasse sarebbe già un bello obiettivo. La verità è che però rispetto al mercato del lavoro, gli 80 euro in busta paga sono una buona idea per i lavoratori, ma non riducono il costo del lavoro, quindi bisognerà agire sul cuneo fiscale come politica strutturale vera e propria per far restare le nostre imprese sul mercato. Visto e considerato che dei 195.000 disoccupati almeno 30.000 sono immigrati, molti hanno un progetto di vita qui e si sono integrati, altri sono venuti solo per lavorare, hanno le famiglie a casa loro ed è bene aiutarli a tornare a casa. Pragmaticamente aiutare chi vuole rientrare a casa, a rientrare a casa e a lasciare casomai le opportunità a quelli che sono qui. Ci sono degli spazi che ci vengono dati proprio dal stanziamento per l'immigrazione a un milione di euro all'anno, non sono grandi cose, ma pensare comunque di fare spazio nel mercato del lavoro potrebbe essere già una grande cosa. Chi è qui, sia insediato, veneto o immigrato che ha qui un progetto di vita, ha una famiglia, penso abbia più diritti di chi viene qui semplicemente per lavorare e tornarsene a casa. Però dovremmo spiegarlo l'Europa. Lampedusa non è il confine d'Italia, è il confine dell'Europa, ma l'Europa ci lascia sotto. Io incontro quotidianamente ragazzi che cercano lavoro, hanno voglia di fare, hanno formazione. E direi che questi ragazzi vanno aiutati sicuramente con le misure della regione per quello che possiamo fare, ma anche con delle leggi e una politica a livello nazionale che incentivi ovviamente l'assunzione di questi giovani. La vera selezione la si fa sul campo, bisogna invece bastonare durante gli esami e l'università come accadeva nei miei anni. Io mi sono laureato nel 1993 e non c'erano i test d'ingresso, ma la gente spariva anno dopo anno. Questi sono i veri test d'ingresso. È inutile chiedere a uno di che coloro era il cavallo di Napoleone, se poi questo vorrà fare il medico. Questo è quello che accade nei test d'ingresso. Io sono contro i test d'ingresso, contro il numero chiuso, perché penso che i bravi ragazzi debbano avere le possibilità. Anche gli studenti lavoratori che magari non hanno possibilità di andare a scuola tutti i giorni, ma debbono anche lavorare. Sa quanti premi Nobel abbiamo in giro per il mondo che non avevano il numero chiuso, non avevano i test d'ingresso e magari erano anche studenti lavoratori. Ieri in Commissione Finanza della Camera ha passato questo emendamento per quanto riguarda la sospensione del pagamento delle tasse fino a luglio. Lei dice grazie, ma non basta. Ricordo che abbiamo presentato un progetto da 822 milioni di opere direttamente e subito cantierabili, visto che il nostro Presidente del Consiglio, Renzi, ha dichiarato di avere quasi 2 miliardi di euro per il dissesto idrogeologico e ha detto più volte che non si riesce a spendere, gli dia al Veneto. Il Veneto lì non li spende, li investe molto bene. È un documento importante e forte di visione e di quello che vogliamo che sia il Veneto da qui ai prossimi anni. Ovviamente muovendoci all'interno di un contesto che è un contesto di crisi, di disoccupazione e di difficoltà dei mercati.